Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faccio la focaccia all'oroso marino con BMI di M5. Iniziamo la ricetta. Nel boccale metto 400 g di acqua dievita, 7 g di lievito di bitra secco e 5 g di zucchero di canna. Azione il bimbi, 1 minuto, velocità 3. Adesso aggiungo 250 g di farina 00 per pizza, 250 g di farina manidobba, 50 g di olio evo e 10 g di sale. Azione il bimbi, 3 minuti, velocità, spiga. metto un po' di farina in un contenitore. Il composto è pronto, lo metto in un contenitore. è un po' molliccio e appiccicoso, ma deve essere così. Copro con un canovaccio, lo lascio lievitare per due ore in forno spento con luce accesa. Sono trascorse le due ore di lievitazione, prendo una placca da forno rivestita con carta forno e la spennendo con olio evo. Ecco l'impasto. Mi ungo la mano con un po' di olio evo. Mi ungo bene tutte e due le mani con l'olio evo per livellare tutto l'impasto. Ho finito di livellare il mio impasto. Adesso lo lasciamo lievitare per altri 30 minuti. Nel frattempo accendiamo il forno a 220 gradi statico. A dopo! Sono trascorsi i 30 minuti e adesso la condisco con aglio di rosmarino del particello. metto un po' di sale e voi potete usare quello grosso e un filo di olio evo. Adesso la metto in forno per 25-30 minuti. A dopo! La mia focaccia è ben cotta e tiepida. La taglio per farvi vedere com'è venuta all'interno. La mia focaccia a rosmarino è pronta. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento se volete, seguite Giustante Se in tutti i suoi social e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!